persone sono cambiate delle cose nel business ovviamente quando uno fa musica a un certo livello diventa un lavoro non è che può semplicemente dire se io faccio un musicista strimpello la chitarra è finita la mia vita entrano le etichette discografiche entrano i manager eccetera eccetera noi abbiamo avuto un percorso che fino a quel momento era stato su uno stesso binario a un certo punto si siamo ritrovati ad avere tre etichette tre manager eccetera eccetera è diventato più un casino tenere insieme la baracca che altro per cui comunque pucci scrive gli haters qualche giorno li prendo gli spacco il culo e vado al cc amen andrea delicatissimo ma pucci ha un modo di vedere la vita che fa talmente ridere che io non riesco neanche immaginarmi perché gliene frega qualcosa degli haters